Ciao ragazzi, eccoci ritrovato a un nuovo video. Oggi continueremo a parlare ancora di animazioni CSS, perché ultimamente mi sono soffermato su questi argomenti, perché ritengo che sia molto importante e strettamente necessario saper ottimizzare al meglio le nostre realizzazioni web e quindi anche i nostri siti web. È infatti molto frequente dover personalizzare i contenuti per avere un aspetto esterico migliore e avere anche un'immagine coordinata che rispecchia il prodotto che stiamo realizzando. Ecco, in questo video parleremo infatti di un elemento molto importante che fino a poco fa non pensavo sarebbe stato possibile personalizzare. Sto parlando della scrollbar di navigazione. In questo video quindi vedremo come è possibile grazie a CSS ottimizzare la scrollbar di navigazione. Vedremo infatti come andare a definire la grandezza, il colore di fondo, piuttosto che la sfumatura, piuttosto che andare a disegnare un'immagine personalizzata che accompagnerà lo scroll delle nostre pagine web. Come al solito mi presento, se ancora non mi conoscessi, mio nome è Eduardo Rinaldi, sono consulente marketing e web designer e ho deciso di creare questo canale YouTube per condividere le mie passioni e le mie competenze con altre persone che come me hanno i miei stessi interessi. Bene, direi di non dilungarci troppo e passare come al solito alla pratica. Iniziamo. La prima cosa ovviamente creiamo un nuovo documento di tipo HTML. Assegniamo un titolo, lo chiamiamo scrollbar navigation, magari custom scrollbar navigation. Dopodiché cosa facciamo? Allora logicamente dovremo andare a creare un documento e assegnare questo un'altezza in maniera da attivare la scrollbar. Ok, quindi cosa facciamo? Andiamo magari all'interno del body a creare un tag P, inseriamo dei paragrafi in maniera da andare a creare un'altezza al nostro documento e vediamo se può essere sufficiente. Lo apriamo in anteprima, ok, vediamo qual è il risultato. Ecco qua, ok, la scrollbar c'è. Magari facciamo ancora un altro paragrafo, giusto per essere un pochino più sicuri. Ok, perfetto, eccolo qua. In automatico la nostra scrollbar è questa qui. Io ora sto visualizzando il nostro documento con Chrome, quindi di default la scrollbar ha questo aspetto, quindi ha questo design. Aggiungiamo un po' di margine alla nostra pagina in maniera da rendere un pochino tutto più arioso. Ok, ecco qua, ottimo. E ora cosa facciamo? Andiamo praticamente a personalizzare la nostra barra di scrollmento. Personalizzare la nostra scrollbar è abbastanza semplice, nel senso che bisogna richiamare tendenzialmente due elementi. Quindi per prima cosa bisogna andare a definire la larghezza e lo si fa praticamente definendo la grandezza del macro contenitore che contiene i nostri due elementi interni. Uno è l'elemento di fondo, questo qui dove abbiamo praticamente l'ombretta interna. L'altro invece ovviamente è l'elemento che possiamo appunto andare a spostare su e giù, quindi questo qui. Chiamiamoli per nome. L'elemento di fondo si chiama il track, ok? Quindi questo qui dove abbiamo l'ombra di fondo, quindi la base dove scorre l'elemento interno è il track, mentre l'elemento interno appunto si chiama il thumb. Allora facciamo così, andiamo inizialmente a scrivere il codice necessario in maniera da andare a capire un attimino meglio quello che stiamo facendo. Allora abbiamo detto, per prima cosa definiamo con questa regola, quindi html due punti, doppio due punti webkit scrollbar, la grandezza della nostra scrollbar. Io in questo caso metto 30 in maniera da vederlo bene. Ok, ora non vedremo niente perché in automatico stiamo andando a modificare la base di default del browser. Cosa facciamo? Andiamo a agire sul primo elemento interno che è il track dicendo appunto la stessa regola, quindi html webkit scrollbar a posto di... anzi no, aggiungiamo in questo caso dopo scrollbar track, perfetto, che è l'elemento, vi contiene la nostra thumb, che è quell'elemento scorrevole. E andiamo ad assegnare a questa qua le regole che vogliamo dare. Quindi diciamo che deve avere un background grigio, ok? E magari diamogli anche appunto un'ombra interna, quindi diciamo di essere box shadow, inset, quindi interna, di 0, 0, 0, 10 pixel. E magari diamo anche un'opacità, quindi lavoriamo sull'RGB A, in maniera da avere anche il canale dell'opacità, e diamo 0, 0, 5, vediamo cosa esce, perfetto. In questo caso vediamo che si sta delineando appunto la scrollbar. Magari 30 era un po' tanto, diamo gli 20, perfetto, ecco qua. Magari anche 15, che se no diventa un po' grande, ok? Qui magari lo metto leggero, F1, 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 perfetto. Ora però ci manca l'elemento interno, quindi dobbiamo andare ad agire sul terzo elemento, ovvero, come detto poco fa, l'elemento thumb. Cosa facciamo? Prendiamo ancora la stessa regolina di codice, a posto però di track, andiamo a mettere thumb. Ecco qua, perfetto. Ok. A questo punto cosa facciamo? Andiamo banalmente, ora per fare un primo esempio, a indicare un colore, quindi diciamo di essere acqua. Ecco qua. In questo caso abbiamo creato l'elemento thumb, quindi l'elemento scorrevole, di un colore a nostro piacimento. In questo caso è un colore acqua. Ci piace. Quindi utilizzando solamente queste tre semplici regole è possibile personalizzare la scrollbar di navigazione in maniera molto semplice. Ora la cosa che ci tengo a precisare è che è possibile fare qualunque tipologia di personalizzazione, in questo caso è una personalizzazione molto base, ma possiamo andare più a fondo indicando, non so, ad esempio un bordo arrotondato, quindi agiamo sul border radius e diamo, non so, 10 pixel di border radius e in automatico la nostra barra va appunto a diventare, la nostra thumb va a diventare tonda. Ok, magari andiamo a dare un colore un pochino più scuro. Magari vado a mettergli, vediamo se trovo un colore più... questo qua forse. Ok, perfetto, bellissimo, ci piace. Cosa facciamo? Volendo possiamo andare a assegnare un border radius anche al track, perché in questo caso qui è piatto e qui è tondo, ma volendo potremmo renderli entrambi tondi, come in questo caso, in maniera da andare a rendere ancora un pochino più carina la nostra scrollbar. Ovviamente il fatto che ora la sto facendo blu è perché molto probabilmente anche all'interno del mio sito potrei avere degli elementi blu, quindi una cosa molto carina potrebbe essere quella di andare a assegnare alla scrollbar un design molto molto simile a quello che stiamo appunto facendo l'entrata dal nostro documento, ipotizzando quindi di avere, non so, font size degli elementi, facciamo 16 pixel, perfetto, line 8 normal, ottimo, andiamo a scoprire un pochino piccolo, ecco qua, line 8 18 pixel, perfetto, facciamo 21, perfetto, ipotizzando magari di avere, non so, una pagina con degli elementi, non so, facciamo così, strong, ok, degli elementi qua e là, magari appunto colorati, possiamo, ora lo sto facendo a caso e senza alcuna logica, però così facendo io potrò dire che non so, body p strong dovrà avere lo stesso colore appunto del mio, della mia scrollbar, quindi color e voilà, così facendo vado un attimino a creare un'immagine coordinata rispetto al mio documento, ok, in maniera da avere una scrollbar di navigazione che logicamente è maggiormente coordinata rispetto al documento, questo è molto comodo in quanto, non so, ipotizzando di avere, di creare un sito web rosa, perché rosa è colore predominante, potrò fare anche la scrollbar di colore rosa in maniera ad andare a creare una maggiore armonia all'interno appunto della nostra pagina web. È possibile inoltre andare a ottimizzare maggiormente la nostra thumb, infatti quelle che abbiamo assegnato sono appunto alcune regole basilari, ma logicamente è possibile andare a fare molto, molto di più, banalmente potremmo andare a creare anche una sfumatura in maniera da dare anche una maggiore tridimensionalità alla nostra thumb. Cosa facciamo? Andiamo, non so, su Colorzilla che è un sito molto carino che utilizzo per fare, per creare appunto delle sfumature e andiamo ad assegnare, non so, una sfumatura, in questo caso già era blu, la facciamo, non so, azzurrina, perfetto, così ci piace, ma possiamo definire se verticale, orizzontale, lasciamo la verticale che è molto carina, copiamo tutto il codice, ok, Colorzilla è molto semplice e molto pratico da usare perché ci permette appunto di andare a pre-scrivere il codice che ci servirà poi per creare una sfumatura, quindi qua lo togliamo, cioè togliamo il background di prima, incolliamo questo nuovo background che va a determinare la sfumatura in automatico, ecco qua, che abbiamo la nostra scrollbar fatta a gradient, quindi anche questo molto molto carino. Logicamente potremmo andare anche a dare un bordo, anzi un box shadow, 0010, ok, in maniera da dare appunto ancora una maggiore tridimensionalità alla nostra barra e questo è quanto. Cosa possiamo fare ancora? Possiamo andare a assegnare la nostra thumb, quindi la nostra scrollbar, non una sfumatura, quindi non un colore piatto, ma un'immagine, perciò cosa facciamo? Andiamo, non so, a cercare all'interno di Google, non lo so, abbiamo avuto un'immagine, arrow png, perfetto, arrow png, quindi selezioniamo un'immagine netta, ad esempio questa qui, che può essere un png, ok, sì, la rinominiamo come arrow png, perfetto, la tengo sul desktop per comodità, e cosa facciamo? Andiamo a dire che la nostra thumb non dovrà avere tutta sta roba, quindi non dovrà essere col background sfumato, quindi non dovrà avere nessun gradient, ma dovrà semplicemente avere, anzi togliamo tutto, dovrà semplicemente avere un background image, andiamo a leggerla insieme, allora, un background image che dovrà essere equivalente a arrow png, che è il jpeg che abbiamo appena scaricato, quindi andiamo a dire allo scrollbar thumb di avere il background image, è appunto questo qui, che abbiamo appena tirato giù, ecco una cosa che dobbiamo fare però, ecco io da solo immagino, ho la freccia che va verso destra, quindi una cosa carina potrebbe essere quella di aprirla e ruotarla, non lo so, verso il basso, ok, perfetto, così almeno ho una direzione che va verso il basso, perfetto. Poi un background size di 30, che dovrebbe essere anche 20, in questo caso però il background size deve essere uguale allo scrollbar, quindi 20-20, perfetto, infatti vedi qua che inizia già ad essere, così, e quello che dobbiamo fare qui è andare però a togliere il background color, e cioè togliamo tutto e diamo il background color se proprio vogliamo un bel trasparente, così appunto sparisce, sparisce, oppure possiamo fare così, possiamo assegnare un border left di un pixel solid, fine fine fine, quindi al fondo al fondo al fondo, in maniera da andare appunto a creare questa divisione, oppure ciccici in maniera da appunto andare a creare una sorta di spazio dove appunto fare inserire la nostra freccetta. loro lo volessero grandire non dovremmo fare altro che cambiare il background size e la grandezza del nostro html webkit scrollbar che è il macro contenitore e in automatico la nostra freccetta andrà appunto a essere inserita questo è quanto, ora vediamo un'ultimissima cosa ovvero tutte queste regole possono essere applicate non solo alla scrollbar di navigazione generale ma possono essere applicate anche a un contenitore interno quindi qualora noi avessimo un div e vediamo subito l'esempio, qualora noi avessimo un div con all'interno appunto degli elementi e qualora questo div fosse modalità overflow scroll sarà possibile appunto andare a creare una scrollbar anche per questo contenitore cosa facciamo allora? magari togliamo tutto per non far confusione quindi partiamo da una situazione pulita, perfetto, così, bianco, ok, cosa facciamo allora? creiamo un div e lo chiamiamo, non so, contenitore, perfetto, qui magari andiamo a copiare un bel po' di volte il nostro paragrafo, ok, e questo div, quindi questo contenitore dovrà avere appunto delle caratteristiche quindi contenitore diciamo che dovrà essere non solo 500 e alto un pochino meno 300 poi diamo anche a questo un margine interno diamogli un overflow che può essere scroll o auto in maniera che tanto lui in automatico in base alla grandezza del testo che c'è all'interno e alla grandezza del contenitore va a creare questo scroll, diamogli un padding interno e magari diamogli un background color in maniera da staccarlo dal documento, perfetto cosa facciamo? in questo caso dovremo agire anche in questo caso sulle regole di prima, quindi webkit scrollbar ma andando a mettere appunto prima di webkit scrollbar a posto di html dovremo andare a assegnare il nome del contenitore quindi prima abbiamo lasciato html webkit scrollbar ora andiamo a mettere appunto contenitore, quindi il nome della nostra, la creazione del nostro contenitore e andiamo ad assegnare a questo quindi tutte le regoline come vediamo infatti quello che è andato a crearsi è un div interno, quindi un contenitore interno e in automatico essendo overflow auto va a crearsi anche qui la scrollbar anche in questo caso sarà possibile fare tutte le personalizzazioni del caso andando ad assegnare o meglio a specificare il nome del contenitore sul quale dovremo operare quindi in questo modo possiamo andare a dire, non so, width 15 pixel, perfetto poi stessa cosa di prima, quindi vediamo se riesco a comprarla ecco la qua, contenitore webkit scrollbar track quindi questo qua è il macro contenitore andiamo a dare anche a questo qui, non so, ccc, una background e un border radius, perfetto, 10 pixel ok, in automatico qua creiamo la barra, ok la, diciamo, la gabbia generale ora dobbiamo andare invece ad agire sul thumb perciò copiamo questo codicello ok e a posto di track abbiamo detto dobbiamo mettere thumb ottimo e qui facciamo anche in questo caso gli assegniamo un background color magari non ccc ma ancora come prima un azzurrino quindi 0666 c perfetto eccolo qua in automatico siamo andati a creare la scrollbar di navigazione anche all'interno di un div con overflow scroll o auto cioè in questo caso scroll va a mettersi entrambi scroll con overflow scroll o auto perfetto ora spero ti sia piaciuto questo video abbiamo visto quindi come andare a creare delle scrollbar di navigazione personalizzata andare a definire l'aspetto estetico, il colore, il design perché è questo? perché logicamente in base al progetto che stiamo realizzando al sito web o alla pagina web abbiamo la necessità di ottimizzare e rendere personalizzata ogni singola parte del nostro progetto quindi grazie a queste semplici regole CSS sarà possibile ottimizzare i nostri progetti rendendoli quanto più belli fammi sapere se ti è piaciuto il video iscriviti al canale se non fossi ancora iscritto e anche perché nei prossimi video continueremo a vedere altri consigli in merito CSS quindi vedremo altre animazioni, altri effetti e altre tipologie di personalizzazione per riuscire a ottimizzare al meglio sempre più i nostri lavori io ti ringrazio per essere arrivato fin qua noi ovviamente ci vediamo come al solito al prossimo video grazie a tutti